La crisi e la tenuta delle aziende che costituiscono l'ossatura strategica del sistema industriale della provincia di Avellino. La fotografia scattata a 10 minuti più 10 con il segretario generale della FISMIC, Giuseppe Zaulino, compone un quadro quantomeno incoraggiante. Bene, la EMA di Murra de Sanctis con i suoi 800 dipendenti in controtendenza condivano gli investimenti e si allarga il portafoglio delle commesse per la componentistica aerospaziale. Situazione difficile, o almeno nel guado, per l'industria italiana autobus su mille autobus commissionati. L'azienda a partecipazione pubblica di Valle Uffita ne ha prodotti meno di 50 con perdite di bilancio di 4 milioni al mese. Domani incontriamo Liguori e tutta la direzione di industria italiana autobus. A lui chiederemo che ci possano essere delle politiche di coerenza tra gli annunci che si fanno e le attività produttive che realmente portano alla produzione degli autobus. In buona sostanza vogliamo capire se questo terzo tentativo in 5-6 anni di rilancio produttivo di questa società, che ci ha approvato prima del Rosso, poi il predecessore di Liguori che ha utilizzato i primi 31 milioni del governo con i 5 Stelle, adesso c'è una linea di credito di 50 milioni che servirebbe a riorganizzare la fabbrica e rende efficiente. Tutta un'altra storia alla Sir Press di Nusco. Valerio Gruppioni si allarga per chiudere in Alta Irpinia il ciclo della pressofusione, con investimenti nell'alta tecnologia e la formazione e assunzione di personale superspecializzato. A Prato-La Serra, Stendlantis regge, producendo intanto i diesel per il Ducato. e resta candidata alla produzione dei motori di tutte le gambe del colosso multinazionale. Il loro destino potrà migliorare, ma anche peggiorare, il relazionale politica industriale e fiscali che intenderà attuare il nuovo governo. Nelle politiche fiscali della Meloni non sappiamo quanti di questi soldi che noi chiederemo agli imprenditori saranno falciliati da tasse e contributi.